Io sono Luca Marcolin e questo è Family Business Unit, il podcast dedicato alle imprese di famiglia dove trovare spunti, stimoli, informazioni utili per gestire al meglio impresa e famiglia ed ottenere risultati in armonia. Lunedì sera, ore 21, noi siamo qui con il nostro FBU Club per accogliere chi è interessato, chi è piacere di parlare, di approfondire dei temi del lavoro, in particolare del lavoro nelle imprese di famiglia. E questa sera abbiamo con noi come ospite Vincenzo Moretti. Buonasera a voi e grazie, grazie davvero per l'invito, sono contento a stare. E sono contento ancora di più io, perché Vincenzo, per chi non lo conosce, è una persona da scoprire. Io l'ho scoperto casualmente seduto alla mia sinistra a una cena di nobilità, eravamo lì per una serata organizzata dagli amici di Fior di Risorse, da Osvaldo Danzi e tutto il loro gruppo, per cui era una serata in cui casualmente mi sono trovato questo signore alla mia sinistra, ho cominciato a chiacchierare due anni fa con lui, più o meno due anni in questo periodo, con lui e ho scoperto un mondo. Ho scoperto un mondo di una persona appassionata del lavoro, da sociologo, da ricercatore, da studioso, da persona che attorno a questo ha una presenza, ha una sua rubrica anche sul Sole 24 Ore, ma ha sviluppato veramente un progetto che ha chiamato il lavoro ben fatto, che mi sembra particolarmente in linea col mondo dei nostri imprenditori, degli imprenditori e delle imprese di famiglia. Vincenzo, ci racconti un pochettino, prima di entrare nel tuo concetto di lavoro ben fatto, a presentarti, a raccontarci un po' di te, da dove nasci, che tipo di percorso hai fatto per arrivare qui. Sì, sì, io insomma ti ringrazio davvero di cuore, non lo so che sembrano quelle cose formali, ma insomma io ci tengo anche per un vecchio modo, diciamo una vecchia educazione che mi permette di parlare di mio padre, che è il primo che ha portato il lavoro ben fatto in casa, perché lui più di 50 anni fa, io avevo 12-13 anni, mi si è presentato una sera, essendo io il primo figlio, ero la persona con la quale lui parlava, diciamo, di queste cose, e lui quella sera, diciamo, mi ha spiegato la differenza tra il lavoro preso di faccia, quello fatto con amore, passione, rigore, impegno, e quello fatto a meglio a meglio, per passare la giornata. Io ero naturalmente un ragazzino di 12-13 anni, di più di 50 anni fa, quindi lo capivo e non lo capivo, non erano tempi in cui almeno io non potevo dire a mio padre ti capisco e non ti capisco, per cui stavo lì, lo ascoltavo, e questa cosa, diciamo, così mi affascinava. Questo per dire che cosa? Che vengo da una famiglia molto semplice, mio padre era un operaio, prima un muratore e poi un operaio elettrico, mamma era prima una bracciante e poi ha fatto la casalinga, come tante donne del sud, diciamo, una volta sposata. E' una famiglia molto semplice, una famiglia però dove il lavoro in un quartiere è anche abbastanza complicato, io sono di secondigliano. Quindi, diciamo, il lavoro era in qualche modo, poi queste cose qua, sai, tu studi, insomma, ti pigli una laurea, diventi un sociologo, scrivi dei libri, le studi, ci ragioni, però quando tu le cose, oltre a studiarle, le hai vissute, certi fatti, no? Quando tu, per esempio, leggi il lavoro e identità, cioè, sai, quella è una frase, il lavoro e identità, quante volte, in quanti discorsi, in quanto il lavoro e identità, però che succedeva? Che succedeva? Che io nel mio quartiere a Secondigliano ero Vincenzo, il figlio di Pasquale, operaio dell'Enel. Tonino Parola, il mio migliore amico a quei tempi, il mio amico del cuore, diciamo così, lui era Tonino, il figlio di Raffaele, l'operaio dell'Ital Sider. Salvatore era il figlio dell'operaio della Mecfonda. Questa roba qui, che naturalmente ci rendiva in qualche modo anche diversi da altri che magari avevano le motociclette che noi non avevamo, avevano i soldi che noi non avevamo e che magari li guadagnavano, cioè, che sicuramente li guadagnavano in dei modi, come dire, illegali, ok? Però noi in qualche modo, l'identità, quando poi tu studi e leggi, dici, il lavoro dà l'identità, tu ti ricordi quella cosa di chi eri tu, Vincenzo, figlio di Pasquale, operai dell'Enel, eccetera, eccetera, e tu lo capisci, cioè, tu lo senti dentro che l'identità ha a che fare con il lavoro. Cioè, ci sta una differenza di non poco conto, insomma, io ho fatto questo tutta la vita, ho studiato, ho scritto, ho pensato, qualche volta ho inventato qualche cosina, insomma, interessante, ho fatto delle esperienze interessanti, sono stato in Giappone, ho fatto un lavoro sull'organizzazione della scienza, sull'organizzazione sulla serendipity, i processi decisionali e il sense making in uno dei più grandi istituti di ricerca del mondo, il RIPEN, sono stato lì un mese e un poco, sono, come dire, ho avuto il piacere di conversare con il capo, il presidente di un istituto di ricerca dove c'erano 6.000 tra ricercatori e scienziati di oggi noi ori, che era stato il premio Nobel per la chimica nel 2001. Cioè, come dire, i vagabondi di Secondigliano, i vecchi vagabondi di Secondigliano come me, arrivati a 65 anni, nella loro vita hanno tante cose, tante cose diverse. Però una cosa che fa la differenza, voglio dire, persino rispetto ai miei figli, perché sia chiaro che il mio discorso non mira a dire, cioè, voglio dire, sono stupidaggini, sono brave, sono sciocchezze, cioè, sto parlando di un fatto di tipo sociale, per questo sto tirando in mezzo i miei figli per far capire che parlo, rispetto persino ai miei figli, che sicuramente sono più intelligenti di me, sono più bravi di me, sono più tante cose di me, però il fatto che loro certe cose non le hanno vissute in prima persona, su certi fatti fa la differenza. Cioè, questo è uno dei problemi, tra virgolette, uno dei temi, ecco, non dei problemi, uno dei temi della società attuale, il fatto di dare per scontate le cose. Io, il viaggio, io l'ho conosciuto quando lavoravo, prima di lavorare, di guadagnare dei soldi, io non ho viaggiato mai, ma mai, perché io a mio padre, oltre a mantenermi all'università, non gli potevo chiedere pure di pagarmi il viaggio. I figli nostri, per fortuna, compresi i figli miei, ripeto, possono fare tante cose, il punto è non abituarli a pensare che quella cosa li è scontato. Cioè, tu non hai lavorato tu per fare il viaggio, però ho lavorato io, ma qualcuno che ha lavorato, e qui c'è un altro tema importante della famiglia e del lavoro, proprio perché tu organizzi, diciamo, stai dentro all'impresa in primo luogo familiare, un altro caposaldo della famiglia e del lavoro, è che per fare le cose ci vuole sempre qualcuno che lavora, non ci sta niente a fare, perché se non c'è qualcuno che lavora, le cose non si possono fare. Cioè, i biscotti, cioè io l'avrò conosciuto, che tenevo dieci anni, cioè non è che sono nato con i biscotti. E naturalmente queste piccole cose, questo tipo di famiglia, se tu te lo coltivi, questo diventa un'opportunità, come diceva Sun Sun, un'opportunità quando la cogli si moltiplica, è così, tu puoi rimanere naturalmente, sono una persona molto fortunata, tutto quello che vogliamo, però la fame, la fame, avere fame, non la fame fisica, avere fame, avere voglia di arrivare, avere voglia di spingere, avere voglia di non fermarsi, avere voglia di conoscersi, cioè voglio dire, insomma, io per il mio lavoro principale sto in pensione, poi come dire, faccio delle cose con l'università, faccio centomila cose, però il computer stamattina mi ha detto che la settimana scorsa sono stato davanti a questo schermo in media 11 ore e 23 minuti al giorno, a 65 anni. Scusami, mi pare di capire che girando il mondo, arrivando in Giappone, occupandosi di ricerca tecnologica, alla fine c'è un fil rouge che si chiama lavoro ben fatto, comunque, non è legato solo al lavoro manuale. Assolutamente. Raccontati un po' come è nata questa voglia di coltivare l'idea del lavoro ben fatto, partendo dall'esperienza con tuo padre. L'inizio, inizio, diciamo, è quello lì che ti ho detto, la cosa inizia con un padre, mio padre, che mi dice, mi fa questa differenza tra il lavoro che ti faccio e il lavoro a meglio a meglio. Poi tu leggi Pavese, La luna e Falò, io poi l'ho riletto l'anno scorso ed è stata una meraviglia, perché a leggere a 15-16 anni è una cosa diversa che a leggere a 64-65 anni. E a un certo punto c'è una frase di Anguilla che dice l'ignorante non è, le persone, l'ignorante non dipende dal lavoro che fai, ma da come lo fai. Ed è bellissimo, perché mio padre non spiaccicava una parola di italiano, quindi tecnicamente ignorante al massimo livello. Mio padre però era uno che passava dopo prima di durare la rete nella sua versione muratore, perché anche quando è diventato opera elettrico nell'Enel che si poteva riposare, lui per mandarci a scuola, eravamo in quattro, il sabato e la domenica, la sera quando smetteva lì, andava a lavorare a casa dei suoi capi. E una volta, io ho una mano, come dire, che non c'ha un gallo, che si vede che il lavoro materiale in vita mia non ne ho mai fatto. Mio padre c'aveva una mano che era, diciamo, come spessore, era quasi il doppio della mia. E dopo che ha passato la camicia di stucco sulla parete, lo vedo che passa la mano vicina alla parete e, come dire, come per sentirla. E allora oso dirgli, nel frattempo c'ho già 17, 18 anni, dico, ma con quella mano gallosa che stai facendo vicino a questa parete? E quello mi dice, stai zitto, tu non capisci niente, per la verità mi dice in un altro modo che qui è meglio non ripetere, però come dice un padre a un figlio, dice, tu non capisci niente, se la parete non è liscia, come dico io, io non la pitto. Che cosa voglio dire? Anche lì, mio padre non è un esempio particolarissimo, una persona piena di difetti come a me, io peggio di lui, una persona con tanti limiti, con tanti difetti, ce ne erano e ce ne sono tanti. Tu hai ricordato il blog che ho su Sole 24 Ore, cioè, io ho raccontato centinaia di storie, bellissime, di persone che fanno delle cose incredibili, semplicemente facendo quello che vogliono fare, quello che devono fare, quello che hanno deciso di fare. Perché poi, anche qui nel lavoro, così, ci introduciamo anche in una delle cose organizzative che poi magari incontriamo da qui a poco più avanti. Perché, vedi, le cose, pure quelle lì, più complesse, sono pure semplici. allora, fai che io faccio un lavoro brutto. Dici, vabbè, ma se io faccio Vincenzo, tu è facile perché tu fai il lavoro che ti piace. A parte che è bellissimo che adoro il lavoro che faccio, adoro stare qui con voi a parlare, tutto è, è tutto vero, però comunque è faticoso. Ci devo pensare, sono le nove di sera, potrei fare un'altra cosa, sto qui a parlare di queste cose, cioè, mi sono svegliato alle cinque stamattina, non voglio fare, però diciamo il discorso funziona così, innanzitutto ci sta, diciamo, come dite, ci sta un impegno. Però facciamo anche che io, che una persona fa un lavoro che non, che non gli piace. Alla fine, poi magari ci torniamo su questo punto perché questo è uno dei punti di snodo del lavoro ben fatto. se tu non c'hai la possibilità di cambiare lavoro o se non c'hai la possibilità di non lavorare, l'unica scelta vincente è fare bene il lavoro che devi fare. Guarda Luca, io all'inizio sembravo un matto con questa cosa, poi nel 1989 si incontrano a Torino Primo Levi e Filippo Roth. Ripeto, anche perché ci si ascolta, Primo Levi e Filippo Roth. Adesso sta nell'ultimo libro diciamo pubblicato di Roth questa conversazione, ma all'inizio viene pubblicata sulla stampa di Torino. A un certo punto Levi racconta a Roth che Lorenzo, il muratore che gli ha salvato la vita nel campo di concentramento di Auschwitz, naturalmente stava in un campo di concentramento, odiava i dedischi, odiava la lingua dei dischi, odiava la cultura tedesca, odiava qualunque cosa sapeva di tedesco, ripeto, per un fatto normale in quel contesto, però se il tedesco gli chiedeva di fare un muro, lui, dice Levi, lo tirava su bello alto e forte. Mo Filippo Roth, non so se mi spieghi, no Vincenzo Moretti, Filippo Roth, dice a Levi, gli chiede, dici scusa, ma com'è possibile? Quella stava in una situazione di schiavitù, cioè com'è che succede questa cosa? E Levi gli dice, perché fare bene il suo lavoro era l'ultimo baluardo per dimostrare la sua umanità, che nonostante stava in una situazione di tipo schiavistica, in condizione di assenza totale di diritti umani, lui fare bene il suo lavoro perché lui non poteva fare diversamente, poi naturalmente appena hanno potuto scappare, sono scappate, cioè sia chiaro, appena ci si può ribellare che ci si ribelli, anche adesso, perché il lavoro ben fatto è il lavoro ben fatto anche dal punto di vista dell'impresa, del riconoscimento dei diritti, poi ci arriviamo del riconoscimento diciamo dei contratti di lavoro, delle condizioni di lavoro, ci vuole un insieme perché altrimenti non è credibile, però quello che voglio dire io è che è assolutamente irrazionale pensare che la risposta all'insoddisfazione del lavoro perché non mi piace è fare male il mio lavoro, perché non è una risposta ed è molto interessante. possono anche pensare che facendolo bene poi ti comincia anche il piacere, cioè c'è il piacere intrinseco nel dentro. Assolutamente, ma soprattutto tu trovi senso, cioè facendolo bene tu trovi senso. Guarda, io faccio spesso, non so se con te ne abbiamo già parlato perché a me piace molto spesso fare questo esempio, fai conto che uno di noi a casa si mette di cucinare una cosa che gli piace, ma perdonatemi io faccio un esempio campano insomma della mia terra ma insomma per qualunque piatto però facciamo che io voglio fare le pasta e fagioli comunque ci vuole la pasta e i fagioli l'olio l'acqua il gas le spezie il tempo il tempo per farlo i piatti i bicchieri il tempo il sapone per lavare i piatti i bicchieri e le pentole che cos'è? ci vogliono comunque venti minuti mezz'ora per fare questa pasta e fagioli se hai messo i fagioli prima a mollo insomma ce l'hai come li devi tenere detto tutto questo che cosa dà senso a tutto questo? il fatto che quando li mangio dico com'è buona la mia pasta e fagioli è l'unica cosa che ci sta senso che gli dà senso perché se è una schifezza io ho buttato la pasta i fagioli l'olio l'acqua il tempo il sapone l'acqua per fare la pasta l'acqua per lavare i piatti cioè io ho buttato tutto l'unica scelta vincente è fare la migliore pasta e fagioli che io sono in grado di fare in quel momento cioè non si può fare ci vuole sempre mezz'ora per farla pure per farla una fetenzia ci vuole sempre mezz'ora ma perché farla male se tu quella mezz'ora la puoi fare bene non dà ne senso a parità di consumo di ingredienti a parità di consumo di ingredienti di energia di tempo di tutto ma tornando a noi quando è che cominci a dar corpo a questa idea del movimento del lavoro ben fatto senti il movimento detto così diciamo non è che mi ricordo insomma perché ripeto è l'hashtag come diciamo oggi che accompagna la mia vita ma diciamo così piglia forma in maniera più compiuta 12-13 anni fa insomma 15 anni fa che cominciamo a lavorare in vari modi intorno e questo ti ha portato appunto a creare proprio tutta una serie di attività quando tu dici è un movimento perché non è un libro non è un blog ma c'è tutto un contesto del blog ti ho detto su sole 24 ore che si chiama lavoro ben fatto guarda i miei colleghi sociologi dicono che dicono giustamente insomma studiano e dicono che abbiamo non so mi sembra sette secondi di di attenzione meno del pesciotino rosso famoso famiccerato secondo i punti di vista questo però è diciamo il sito di tutte le attività non quello del sole 24 ore però il sito di riferimento si trovano tutti i riferimenti lì è bello assolutamente quello quello che voglio dire è che nonostante le mie storie ci vogliono venti minuti a volte anche mezz'ora per leggerle comunque è un blog che dal maggio 2014 ad oggi c'ha più di settecentomila storie lette e quasi quattrocentotrentamila lettori unici c'è un successo incredibile per una cosa che tu ci metti venti minuti c'è settecentomila persone che hanno impiegato venti minuti per leggere una storia a me sembra un blog sei un influencer dei più dei più no no lascia stare gli influencer quello che voglio voglio dire io preferisco dire che viene riconosciuto un valore in un fatto che c'ha un senso e che vuole dire una cosa perché poi viene riconosciuto insomma è una è un'istanza che è di molti non è solo tua non è solo me esatto è una cosa che incontra te capito cioè tu la leggi solo se già tu sei così e la cosa bella è che noi scopriamo in questo modo che siamo in tanti perché veramente siamo in tanti cioè siamo in tanti il punto uno io poi ci ho scritto l'anno scorso questo libro lo faccio vedere fallo vedere bene perché io ho qua un altro tuo libro ma giustamente dici meglio che vedano quello che meditano perché questo è il libro di una vita l'ho scritto insieme a mio figlio anche qui perché è il libro della mia vita però anche qui ci è piaciuto molto questo legame mio figlio non è la prima volta che lavora lui ha il lavoro suo fa il libraio scrive libri anche per i fatti suoi però ogni tanto per esempio lui è venuto con me in Giappone diciamo per in quella fase adesso ho un cattivo inglese allora era pessimo e fare quelle cose con i giapponesi americani in una cosa di quel tipo senza il suo aiuto sarebbe stato impossibile poi siamo tornati da lì abbiamo scritto un libro insomma eccetera eccetera però la cosa che ci piaceva è questo legame anche qui della ecco una delle cose che mi era piaciuto mi sembra che me l'aveva detto il responsabile della tecnologia della o della comunità europea o dell'ambasciata italiana adesso non ricordo più mi aveva detto che in Giappone un imprenditore quando mette su un'azienda non è che la mette come obiettivo per stare tre anni cinque anni dieci anni la mette che deve durare duecento anni cioè la cosa sua è che tra duecento anni quell'azienda deve portare il suo nome e questa cosa qui a me ha colpito tanto insomma mi ha preso e in questo ragionamento mi è piaciuto il fatto delle tre generazioni mio padre io uno dei miei due figli che in qualche modo diciamo dentro a questo ragionamento del lavoro ben fatto trovassero il modo anche di una senso civile civico della propria esistenza perché poi come dire alla fine è questo come sai con i libri non si diventa ricchi cioè queste cose qui non sono cose per diventare ricchi però sono cose per diciamo come dire per portare avanti una possibilità un discorso come ho scritto nella mia bio dopo tanti anni questo lavoro ben fatto è diventato un format è diventato un percorso organizzativo per le aziende è diventato un libro è diventato un blog è diventato un mare di cose che sono diciamo adesso si chiamano ecosistema è un piccolo piccolissimo microscopico ecosistema che però tiene assieme c'è questa cosa che facciamo ogni anno il 30 aprile la notte del lavoro narrato è l'ottavo anno anche quello una formula incredibile cioè io come dire ho avuto l'idea poi ognuno se lo organizza come vuole lui e si passa quella serata la sera prima del primo maggio la festa del lavoro a raccontare storie di lavoro ed è diventato una cosa dove ogni anno partecipano migliaia e migliaia di narratori che che raccontano che raccontano il diciamo il lavoro Rovelli che è un fisico per fortuna e non un sociologo perché queste cose quando le diciamo noi sociologi sembriamo dei matti però Carlo Rovelli che invece è un fisico in uno dei suoi meravigliosi libri L'ordine del tempo a un certo punto scrive che siamo ciò che raccontiamo l'importanza del racconto l'importanza di raccontarci l'importanza dell'impresa familiare del Veneto del nord del centro del sud di raccontarsi di raccontare quello che è non solo di fare ma di raccontarlo perché in questo racconto non ci sta solo esempio ci stanno pure difficoltà ci stanno limiti ci stanno fallimenti ma sai quante volte ho dato testate nel muro ma un'infinità di volte ma non fa niente fa parte delle cose diciamo che ci troviamo ad affrontare però la mia testata nel muro può aiutare te a non pigliare la stessa testata ad evitare quella e magari te ne prendi un'altra tua che poi servirà a un'altra persona per fare un'altra cosa questo è senso anche di creare uno dei capitoli del libro si chiama la blockchain del lavoro ben fatto che è un mio sogno guarda se ci pensi i cattivi in tutta la storia dell'umanità fanno in fritta a unirsi vedi le mafie che diciamo sono un tema che per noi ci scotta molto molto la pelle per la verità anche al nord però diciamo io voglio parlare del mio mi brucia molto sulla pelle ok le mafie quelli si ammazzano cioè non è che vanno d'accordo si ammazzano tra di loro però fino a un certo livello poi c'è un livello in cui si riuniscono e stabiliscono il nuovo ordine e non a caso quel livello lì lo chiamano un sistema il sistema perché quello è l'approccio sistemico cioè si tu ti puoi ammazzare per controllare un territorio per controllare un nuovo tipo di mercato della droga eccetera eccetera però oltre un certo livello ti devi fermare la cosa più importante di tutte è il mantenimento del sistema noi buoni non siamo così noi abbiamo talento tanto qualche volta abbiamo organizzazione ma non facciamo mai sistema mai perché ci sta sempre quello lì che è più bravo di quell'altro più bravo che è più bianco che neanche con il candeggio si può quindi tu dici tanta fatica a fare cooperazione esatto su questo portandolo a un livello più operativo tu dicevi prima che hai anche un approccio organizzativo e Maria Chiara che ci sta leggendo fai complimenti a te ma chiede proprio anche come fare in qualche modo a veicolare con un imprenditore questo tuo concetto di lavoro ben fatto con i suoi collaboratori quindi qua credo tu possa raccontarci anche delle esperienze concrete di cui mi parlavi prima sì 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 allora facciamo così io vi racconto di Airpol che è una piccola azienda diciamo di 50 dipendenti una cinquantina di dipendenti ma precisamente diciamo come dire non lo so del casertano un'impresa diciamo che viene da un settore tradizionale ma che però sta facendo molta innovazione fino al design fino a prodotti ecologici in un settore quello delle plastiche oppure dei polimeri per dire più correttamente dove ci stanno tante cose cose da fare ok lì l'imprenditore è un mio amico e a un certo punto insomma ha letto il libro affascinato di queste cose come insomma dice ma come si fa dice guarda io vorrei fare qualcosa che riguarda per far entrare questi concetti voglio precisare che una cosa che è importante a parte che non ci stanno proprio le possibilità di muoverci ma comunque in ogni caso diciamo non so come dire prendiamo il discorso per quello che è come un caso di studio di una cosa che io ho fatto cioè non desidero proporre niente no faccio tranquillissimo però mi piaceva molto come esempio quindi allora io che cosa ho fatto io gli ho detto guarda fai una cosa tu a ogni dipendente organizziamo un percorso su tre giornate di formazione per queste persone però prima che io vengo in azienda tu compri una copia del libro e la regali stavamo nella prossimità del Natale tutte queste cose io dopo vi lascio un link o lascio a Luca il link della pagina perché questa storia è raccontata con tutto il percorso anche con le cose che hanno fatti i lavoratori ci sta tutto su nuova il sole 24 ore quindi voi la potete andare a vedere e la potete studiare è un caso di studio che io diciamo ho chiesto proprio al mio amico imprenditore Riccardo Van Denet Van Denet che di diciamo di utilizzarlo in questo modo proprio per metterlo a disposizione di altre possibilità di altri studiosi di altri formatori di altri esempi ho detto tu stavamo nelle vicinanze di Natale lui dice è una bella idea lo facciamo per Natale parlando ci siamo detti non distribuiamo questo libro come dissimo una cosa il giorno in cui lo dovete distribuire alle persone facciamo un collegamento e io per un'oretta spiego perché ho scritto questo libro da dove vengo c'è praticamente un po' una cosa come la stiamo facendo io e te stasera ok e perché ha senso questa roba qui dopodiché loro leggono il libro e io diciamo poi dopo vengo in azienda e lavoriamo e abbiamo fatto così cioè il mio amico si è fidato abbiamo fatto in questo in questo modo quando sono andati in azienda ma non tutti quanti l'avevano letto non tutti quanti l'avevano letto tutto però si era creata una situazione per cui tra di loro cominciavano a parlare del lavoro ben fatto che cos'è il lavoro ben fatto che significa come funzioni io non so se c'è qualcuno di loro che è riuscito perché qualcuno ha qualcuna speranza altri insomma li avevo invitati insomma perché stanno lì sono persone vere quando siamo arrivati noi sostanzialmente come potete leggere nella storia lì nel nel resoconto giornata per giornata abbiamo prima riragionato insieme su tutti i principi come si fa in queste attività in maniera molto interattiva e creativa ma insomma ma questo è normale è scontato che cosa significa questa roba qui e poi li abbiamo fatti cominciare a far confrontare con le soluzioni io nei miei 12 anni 11 anni 12 anni di insegnamento di sociologia dell'organizzazione all'università di Salerno con gli studenti ho avuto sempre molta empatia e spesso gli studenti venivano per me anche per problemi esistenziali non solo durante l'ora di ricevimento insomma qualunque problema volevano parlare certe volte bussavano alla porta prof quando posso venire c'è un problema ne vorrei parlare con lei guarda tu puoi venire con il problema perché io sono disponibile però insieme al problema devi portare anche una soluzione poi un'altra soluzione ce la metto io poi discutiamo tutti e due del problema e delle nostre due soluzioni e poi d'assi troviamo una soluzione se tu vieni qua solo col problema fammi il favore non venire statene a casa statene a casa perché se io ti racconto i problemi miei io ti faccio piangere cioè io non sto qui per sentire i problemi tuoi io sto qui insieme a te per cercare soluzioni questo passaggio dal problema alla soluzione è decisivo anche in ambito organizzativo la stessa cosa abbiamo fatto pure in azienda ok c'è questo problema perfetto prima loro hanno discusso dei problemi ma poi hanno discusso di soluzione e di quali erano le soluzioni e si sono confrontati alla presenza dell'imprenditore che è stato lì due giorni la terza giornata ancora dobbiamo fare senza diciamo come dire dire una parola però ad ascoltare a sentire è una parte di queste cose lo trovate pubblicato c'è una lettera di Riccardo a me che ho pubblicato in cui lui dice dopo le discussioni che abbiamo fatto le cose che ha messo in atto perché naturalmente anche questo è un aspetto perché se tu chiedi a una persona uno sforzo per trovare una soluzione su quella cosa e poi quella soluzione la ritieni valida tu quella cosa la devi fare perché altrimenti non tiene senso cioè diventa un gioco stiamo perdendo tempo e diventa come la pasta e fagioli fatta male cioè non funziona ma se tu decidi che la vuoi far funzionare il lavoro è ben fatto funziona veramente perché veramente la capiscono tutti e veramente capiscono tutti che conviene naturalmente con gradualità con dei tempi come diceva Totò che magari non l'amate come lo amo io però diciamo che era uno straordinario comico cioè non sono fiaschi che si abbuffano cioè non sono cose che accadono dal giorno a domani però come diceva Shane cambiano la cultura organizzativa assolutamente e se io voglio capire come funziona un'organizzazione devo capire qual è la sua cultura anche qui vale per la famiglia vale per l'impresa la cultura organizzativa di un'impresa è decisiva allora se noi siamo tutti orientati a trovare soluzioni e a no a essere sommersi di problemi naturalmente le soluzioni che si possono trovare perché vale il discorso che ci siamo fatti prima Luca e persone che ci state ascoltando diciamo con mia grande gratitudine cioè vale lo stesso discorso di prima cioè se è un problema allora un problema è un problema se tiene una soluzione se non tiene una soluzione è un guaio è una calamità è un catacrism ma non è un problema cioè un problema tiene una soluzione non tiene una soluzione proprio dal punto di vista del lessico non è un problema cioè i problemi hanno soluzioni la possiamo avere parziale mi stai facendo pensare che in qualche modo esposo tantissimo la tua idea non c'è da costruire chissà quale sovrastruttura chissà quale teoria è molto più semplice molto più buonsenso di quello che posso immaginare quello di far dialogare le persone intorno a quelli che loro vedono come problemi e possibili soluzioni sì 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 il lavoro guarda io partirei da qui io partirei dal fatto che quello che è detto nel video è tutto vero cioè è vero che che conviene per i motivi che abbiamo accennato è vero che è bello che è giusto poi proviamo a immaginare un attimo diciamo come come perché altrimenti sembra una fantasia ma invece è una cosa straordinariamente reale proviamo a immaginare quando ci fa male un ginocchio non pensiamo a cose gravi e dobbiamo andare da un ortopedico quando come dire è giusto che l'ortopedico ci guarisca bene il ginocchio ci risolva il problema che noi che noi abbiamo al ginocchio è un nostro diritto cioè se andiamo all'ospedale è un nostro diritto essere curati però provate a immaginare la differenza che fa quando troviamo il bravo medico e il medico meno bravo non diciamo cattivo di questi tempi quando troviamo il bravo infermiere e l'infermiere meno bravo è il bravo calzolaio è il calzolaio meno bravo allora anche qui sembra una banalità ma non è banale è semplice ma non è banale perché il lavoro ben fatto degli altri è un mio diritto il lavoro ben fatto è un mio dovere perché io non posso chiedere che il postino faccia bene il suo lavoro il medico il vigile urbano il mio dipendente il mio datore di lavoro il mio collega e poi io non faccio bene il mio lavoro perché perché e quando la bambina mi chiede e dice Vincenzo che cosa succede funziona tutto meglio anche qui allarghiamo allarghiamo un attimo il pensiero pensiamoci assieme guardate che se in una qualunque città il vigile fa bene il vigile il medico fa bene il medico il calzolai fa bene il calzolai l'ingegnere l'architetto funziona tutto non ci vuole nessun'altra condizione se ognuno fa bene quello che deve fare funziona tutto ora perdonami ti interrompo e magari rompo un po' l'entusiasmo che ci stai mettendo ma vorrei problematizzare un attimo perché la questione è chi è che decide se un lavoro è fatto bene soprattutto nel momento in cui oggi non so se qualcuno ti ha già fatto qualche obiezione su questo fronte ma molti di noi si sentono parte di un sistema produttivo lavorativo molto più grande di loro per cui il lavoro mal fatto è un lavoro del sistema è la cattiva organizzazione o è la cattiva tecnica cioè da quel punto di vista non c'è a volte il rischio che qualcuno ti dica ma Vincenzo io cerco di fare il mio lavoro ma il sistema attorno a me non funziona il problema è più è più grande di me ascolta io adesso come dire avremo bisogno di più tempo di quello che abbiamo però cerco di andarci diretto diretto ok allora Jeremy Rifkin diciamo il futurologo sì esatto oltre a essere futurologo per fare un esempio lui è consulente della Merkel è stato consulente della Zapatero di Zapatero della Merkel è stato consulente di Alemanno quando era sindaco di Roma è un uomo che a livello mondiale vale tantissimo e costa tantissimo quanto vale diciamo così lui dice che questo mondo che fa le cose male ha 30 anni di futuro allora io ripeto non ti sto facendo il discorso dell'ecologista di quello dei pesci di quello ma le farfalle tieni presente che a me mi piacciono sia i pesci che le farfalle però non voglio fare questo ragionamento qui perché non voglio sembrare un sognatore io non sono un sognatore io sono uno che ogni giorno cerca di cambiare delle cose ok però Jeremy Rifkin non è un sognatore e dice che ci stanno 30 ma io voglio dire che è pessimista facciamo che ce ne stanno pure i 50 e facciamo che ce ne stanno pure i 70 è una prospettiva credibile per un'intelligenza come l'intelligenza umana per una razza come la razza umana che è l'unica razza che conosco fino adesso avere 50 anni avere 30 anni 50 anni 70 anni di futuro il futuro del mondo Luca sta nel lavoro ben fatto non sta nella quantità se nella qualità la quantità ci porta agli sprechi che non possiamo reggere più perché io sta di nuovo piena vedevo oggi di un fumo che non sanno neanche loro che fumo è e di cioè quando siamo andati nella prima fase del covid in India hanno visto l'Himalaya a centinaia di chiedri che erano secoli che non lo vedevano più quella roba lì non è più possibile perché noi lo consideriamo un lusso perché noi pensiamo come dire che ma non funziona così non funziona così ti ripeto anche sul piccolo imprenditore fai conto che io faccio perché insomma io ho fatto tanti lavori nella mia vita tutti che mi hanno molto appassionato ma anche molto diversi tra di loro aziende piccole medie grandi e grandissime di cui da vari versanti ho seguito l'organizzazione del lavoro le possibilità di sviluppo quelle lì che hanno avuto più futuro sono state sempre quelle lì che hanno innovato e hanno pensato possibilità diverse in quella fase tutti quelli che cercavano di competere sul basso costo e sul prodotto scadente sono morti o per i cinesi o per gli indiani o per i pakistani o per la Serbia o per i paesi dell'est non se ne è salvato uno ma io non è che ti parlo di uno due o tre cioè da un versante diverso di organizzazioni sociali io ne seguivo centinaia di queste situazioni ed era tutto così oggi ci vuole un cambio di paradigma dopodiché partiamo sempre dalle condizioni date ok in Airpol si parla pure di tettoie cioè non è che parliamo della bomba atomica cioè si parla pure della tettoia però la tettoia può essere una cosa che in un certo frangente può fare la differenza come no ok si parla di cose che sono possibili in un dato momento si parla di 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 come dire di avere l'attrezzo al posto giusto nel momento in cui serve ora se tu discuti con chiarezza con le persone che lavorano non c'è nessuno di quello che lavora che può dire che se non trova l'attrezzo al posto giusto quando serve è perché come dire c'è sto covid c'è evidente che ci sta qualcuno che nel processo lavorativo non lo mette per centomila ragioni non sarà colpa sua ma non lo mette dove lo deve mettere quell'attrezzo allora tu devi discutere concretamente perdonami l'esempio molto semplice ma io ti voglio dare l'idea che io parlo di cose molto concrete non di fumo cioè si deve trovare un modo di capire prima ti devi chiedere perché queste attrezzo non stanno dove stanno dove devono stare quando ti servono e poi che cosa devi fare perché questa cosa qui accada e se può fare e tu ti trovi di fronte a un altro problema che risolvi e mentre invece di andare in giro a cercare l'attrezzo quei tre minuti li puoi spendere per fare una cosa persino per pensare alle vacanze che potrai fare quando finalmente potrai viaggiare un'altra volta perché è meglio perché funziona di più non so se stai leggendo anche i commenti ce ne sono diversi io da qui non li leggo te li traduco un pochettino io Giancarlo l'amico Giancarlo chiede se in qualche modo c'è una connessione tra il concetto di lavoro ben fatto e sostenibilità in qualche modo sono sinonimi come no Luisa dice quanto è importante nobilitare il lavoro di tutti nostro e altrui esatto il tema delicato sicuramente è quello di trovare un equilibrio c'è Giulio che dice da un lato abbiamo la qualità assoluta dall'altro abbiamo il contenimento dei costi dall'altro abbiamo la velocità in qualche modo ci sono delle tensioni intorno al concetto di fare bene le cose che vanno trovate per cui va trovato un equilibrio un po' e questo assolutamente sì Luca io ti seguo però l'equilibrio va trovato dall'analisi allora come ti devo dire fai conto che se io a 20 anni corrivo i 100 metri in un minuto ok diciamo per dire e adesso ci metto 10 minuti ok è evidente che io devo trovare un equilibrio perché magari il mio allenatore mi deve presentare alla gara e non ci posso mettere 10 minuti però se partiamo dal fatto che io dai 65 sto andando verso i 66 io a 9 minuti eppure a 8 ci posso arrivare ok a un minuto non ci posso arrivare ok dopodiché dobbiamo decidere se io il tempo mio lo devo spendere per cercare di arrivare a 7 minuti e mezza scusami no e magari e magari non ci arrivo mai oppure probabilmente posso fare una cosa diversa posso dare un contributo diverso posso avere un ruolo diverso oppure posso andare in pensione a un'età diversa da questa età assurda in cui oggi posso andare in pensione e ci sta un'unità di intenti nel capire che le persone non che non debbano lavorare per esempio mio padre quando non ha lavorato più lui ha vissuto a un certo punto lui è in pensione poi è andato in pensione si è entristito e non se l'ha goduta neanche non che le persone in assoluto non debbano lavorare però non debbano lavorare come lavoravano prima di andare in pensione tu devi partire dal caso specifico però se tu lo stringi lo stringi lo stringi il caso specifico ritorni sempre a quelle due o tre variabili lì hai la possibilità di farlo diversamente hai possibilità di non farlo se non lo puoi fare diversamente o non puoi farlo lo devi fare bene cioè non c'è alternativa ma veramente non c'è l'alternativa detto così sposa molto il commento di speranza che dice di fondo che non c'è una valutazione esterna se stai facendo bene o male c'è un bene assoluto lo sai tu quando stai facendo bene c'è un concetto di dedizione c'è un concetto di in qualche modo non so se torna con te l'idea che è un riferimento quasi categorico direbbe qualcuno ecco ti torna un po' che sia così cioè che speranza innanzitutto per chi si ascolta è una delle persone che sta facendo che lavorano in Airpol e sta facendo questa attività di formazione ok la salutiamo per questo la saluto tanto e sono contento perché insomma lavoro una giornata intere figli casa insomma il fatto che sta qui e per dirti il 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 che lei ci sta mettendo non è un capo non è insomma una lavoratrice che fa molto bene il suo lavoro però insomma è una lavoratrice dell'azienda in alcuni casi ci sta anche chi te lo ci te lo dice cioè abbiamo dei sistemi di qualità abbiamo il fatto che dobbiamo ridurre nel caso per esempio della sua azienda bisogna ridurre la quantità di materiale che non può essere riciclato ci stanno degli indicatori oggettivi che determinano anche se ti dice bene perché tu hai rispetto a quelle cose lì che poi cerchi anche di migliorare gli indicatori di performance cerchi di migliorare diciamo il punto e la strada con la quale tu migliori tante cose si possono migliorare stando più attenti tu devi dare però un senso al fatto che le persone siano più attente io che lavoro nella tua azienda l'azienda è tua non è mia ci deve stare una ragione per cui io devo stare attento perché magari un giorno c'è il figlio malato ho litigato con mia moglie mia mamma non sta bene cioè io devo avere una ragione naturalmente questa ragione non è soltanto economica guarda ma queste cose qui non le ho inventate io queste cose qui sono nate diciamo come dire cento anni fa Barnard cento anni fa ingegnere della Bell si inventa la dicotomia incentivi e contributi l'equilibrio tra incentivi e contributi dove l'incentivo è quello che l'azienda il datore di lavoro dà al lavoratore e il contributo è quello che il lavoratore dà alla sua azienda al suo datore di lavoro cioè non sono cose che invento io le motivazioni la scala dei valori in cui il fatto economico spesso nelle migliori aziende americane i benefit più ricercati sono quelli là che già sono pagati bene perfetto ma non è sempre solo una questione di carattere economico e anche il fatto che per esempio se tu mi se io io sono stato rimandato in terza e quarta superiore teoricamente sarei un perito elettronico non so neanche avvitare una lampadina e sono stato rimandato nelle materie più importanti elettrotecnica e matematica elettronica e matematica perché io praticamente quella scuola lì non la capiva proprio avrei dovuto fare il liceo mio padre aveva era fissato su una cosa che io dovevo andare dovevo fare il concorso all'Enel dovevo vincere e dovevo andare a lavorare come tecnico all'Enel perché se io andavo a lavorare all'Enel come tecnico mi avrebbero chiamato signor Moretti mentre a lui lo chiamavano Don Pasquale lui non riusciva a passare sopra al fatto che lui lavorava 9000 16000 volt cioè una cabina di elettricità la governava come diciamo come come pochi ok arrivava il giovane tecnico di 20 21 anni che non sapeva fare nulla e quello lì era il suo capo lui lo doveva chiamare signor Marco Lin e signor Marco Lin diceva vicino a lui Don Pasquale io ho passato sto per fortuna ho finito sto diploma nel libro racconto la storia bellissima di quando lui mi ha chiesto di andare all'università pensando che io facessi ingegneria io gli ho detto tu sei matto io faccio il concorso nelle ferrovie e me ne vado a fare il ferroviere lui mi ha chiesto dice ma perché tu che vuoi fare perché lui ci tenesse ci teniva molto che io andassi all'università io dissi vorrei fare sociologia e lui mi disse che cos'è la sociologia io dissi papà sociologia no sociologia ho capito e che cos'è poi il resto diciamo come dire fammi fare così se ti vado te lo leggi nel libro perché è lungo però io che cosa però io che cosa ti voglio dire io ti voglio dire che a mio padre sarebbe bastato che il suo capo gli riconoscesse le sue capacità professionali gli dicesse Don Pasqua voi che capite come si fa mi insegnate come si fa che non si rapportasse a lui come il capo perché ero tecnico però non capiva niente perché ero giovane perché non aveva esperienza perché era il secondo mese che vedeva stava su una cabina elettrica o su una sottostazione allora i motivi quando parliamo come dire di che cosa significa dare senso perché il lavoro conviene poi un altro aspetto della bambina della domanda della mia risposta è il fatto che quando ti abitui non smetti più Luca se ci pensi te se sei abituato a fare il lavoro in un certo modo se lo devi fare male ti devi impegnare cioè ci devi pensare nessuno di noi piglia la sciarpa se c'ha freddo e se la mette sotto i piedi cioè ce la mettiamo al collo mentre parliamo mentre partecipiamo alla diretta senza pensarci ma non è una cosa naturale automatica è una cosa culturale cioè ci siamo abituati la prima volta che ci siamo allacciati le scarpe quando avevamo due o tre anni per chi ha i figli di cinque anni quattro anni cioè era una cosa complicata una volta che hai imparato tu mentre fischi ti allacci le scarpe perché ti sei abituata pensare di scrivere una cosa e di scriverla male se tu devi scrivere le lettere ai tuoi associati scriverla sgrammaticata ti devi impegnare cioè una volta che ti sei imparata a scriverla con la grammatica e le virgole e i punti nel modo giusto tu anche se stai pensando altro magari qualche refuso lo correggi rileggendola però la scrivi bene se la vuoi scrivere tutta sgrammaticata ti devi impegnare è così su tutto una volta che tu ti sei abituato a farla bene una cosa per farla male ti devi impegnare perché altrimenti senza mensaggi la fai bene ma è così veramente non è uno scherzo e tra l'altro è qualunque lavoro è qualunque lavoro che è così il falegname e cose vicino a una macchina è la stessa cosa cioè mio padre quando pigliava un pezzo di ferro quando diciamo per nei suoi momenti lì ci passava la cosa sopra per farlo piano che manco mi ricordo come si chiama la pialla eccetera eccetera cioè quello veniva perfetto mio padre poteva cantare poteva guardare gli alberi poteva fare quello che voleva lui solo con la mano su quel pezzo di ferro quello veniva perfetto perché lui era abituato a farlo bene cioè se lo doveva fare storto mio padre metteva il panivento senza con i fili di nylon messi a X e a crucia quando aveva finito di metterli il pavimento mi chiamava e diceva vincere vieni qua metti la livella là la goccia dove sta papà al centro mettila là la goccia dove sta papà al centro mo mette la al centro del pavimento la goccia dove sta papà al centro chi sta in un pavimento mi sa regola d'arte il concetto di regola d'arte l'aveva messa Luca mi devi credere l'aveva messa oggi c'è il filo si può muovere non è che camminava c'è quello andava avanti era veloce però quel lavoro suo lo sapeva fare e così è l'operatore vicino alla macchina e così è quello lì che sta alla spedizione e così è quello lì che sta nel magazzino e così quello che deve avere i rapporti con il cliente se è quello lì che deve scrivere la mail al cliente è uno che c'è il senso di quello che deve fare e impara a fare la mail può pensare a quello che vuole lui la fa giusta perché si deve impegnare per farla sbagliata pensateci paradossalmente c'è Maria che dice in qualche modo è un cambio di paradigma ci vuole il tempo per arrivare a questa nuova cultura del lavoro ma paradossalmente parlavano di regola d'arte di tuo padre ti rifai sempre una cultura del lavoro che invece forse abbiamo un po' abbandonato perché abbiamo una tradizione italiana in particolare nell'artigianalità nella cura del dettaglio nel far bene le cose che a mio avviso appunto forse abbiamo perso negli ultimi decenni ma che era proprio nostra è una tradizione e lì si apre anche un altro aspetto leggevo e mi piacerebbe andare verso la chiusura perché già è passata l'ora però è troppo bello ascoltarti bisogna fare un'altra puntata mi sa però pensare al lavoro ben fatto mi fa pensare all'idea di quegli scultori delle statue che stavano e addobbavano le chiese nel medioevo che si preoccupavano di curare la statua anche dietro dove in qualche modo non era vista da nessuno però il lavoro chiedeva che fosse finita anche dietro a volte ho l'impressione che volendo ottimizzare volendo cercare efficienze di tutti i tipi ci siamo preoccupati solo della parte estetica del lavoro ben fatto della parte esterna e vendibile perché non viene pagata tra virgolette dal mercato tu ci stai chiedendo di tornare alla regola d'arte ci stai chiedendo di stare su una dimensione quasi di un lavoro che è premiato in sé al di là del valore di mercato non so se sei d'accordo no aspetta io adesso ti sorprendo e mi piace che finiamo così perché io ti sorprendo perché hai detto una cosa stupenda io insisto che si può fare dappertutto si può fare in qualunque tipo di azienda familiare industriale agricola eccetera eccetera però ti faccio un esempio perché altrimenti le mie sembrano diciamo soltanto 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 ciaccere scusa mi alzo perché vedete che sto perdendo un po' di connessione ecco qua allora ma non mi viene in mente il nome insomma l'autore della biografia di stevie jobs mi sembra jacobs esatto jacobs ok grazie stevie jobs lo porta alla alla cosa del alla casa del padre adottivo paul jobs e gli racconta che il padre eh gli aveva insegnato che la staccionata bisogna farla bene anche di dietro al lato in cui non si vedeva guarda che cosa meravigliosa neanche se ci fossimo messi d'accordo vi giuro chi ci ascolta che non ne abbiamo proprio parlato e in più gli aveva detto che anche la parte di dietro dell'armadio quella che va sul muro va fatta non solo bene ma deve essere bella ora più avanti nelle pagine eh l'autore racconta che stevie jobs è rodiato da una parte dei suoi lavoratori perché li costringeva io che insomma uso i suoi computer da tanti anni me lo ricordo c'era proprio diciamo una come dire una narrazione su questo fatto non si possono aprire non si possono aggiustare e lui andava in giro a spiegare che ogni singola saldatura non doveva essere solo fatta bene ma doveva essere anche bella e gli ingegneri lì i tecnici gli dicevano ma scusa ma questa non la vedrà mai nessuno lui diceva non è importante deve essere bella e ben fatta io amo usare questo claim bellezza e lavoro ben fatto e l'Italia va ora noi parliamo della Apple quindi parliamo della tecnologia parliamo di grandi dimensioni è una filosofia è un approccio è un modo di pensare e di fare le cose non è una poesia cioè è un fatto vero che si può fare sempre in qualunque situazione naturalmente partendo da quella situazione concreta ci vogliono dei professionisti seri che fanno un'analisi seria di quella situazione perché ripeto non facciamo i maghi i maghi non esistono la risoluzione dei problemi da un giorno all'altro non esiste però esistono dei percorsi che permettono di raggiungere dei risultati e oggi questi percorsi come dire per me passano attraverso l'acquisizione della consapevolezza guarda un'altra cosa che io tra i grandi scienziati con i quali ho lavorato in Giappone oltre a Piero Carninci che insomma è un italiano e che adesso è anche responsabile della genetica per l'istituto nuovo tecnopolo che sta a Milano ma comunque sta ancora lì in Giappone diciamo è uno dei più grandi studiosi di DNA e spero che un giorno lo venga lui il Nobel che mi ha promesso il mio amico Piero che la prima intervista la fa con me e la faccio io perché con lui abbiamo cominciato con questa roba della serendipity e della scoperta per geni e per caso più di 15 anni fa ce n'era un altro che si chiama Franco Nori che è un dizio tanto per dire che lavora sull'intelligenza artificiale e che diciamo ha avuto diverse copertine di science insomma uno scienziato enorme questo qui un giorno l'ho trovato con una parete intera piena di costi di segni matematici che per me erano e geroglifici che ha acceso come facciamo un po' tutti a volte una lambatina quei cosi che mirano e ha detto lì ci sta un errore c'erano con lui altri 30-40 tra ricercatori e scienziati allora quando poi ha finito io gli ho detto Franco ma l'hai fatto questa cosa per me insomma è un regalo che hai fatto a me dici no no ma quella è una cosa seria noi qui cioè se noi andiamo fuori e ci sta un difetto nel nostro lavoro e lo scoprono gli altri noi siamo finiti significa perdere finanziamenti qua parliamo di milioni di dollari parliamo di decine di milioni di dollari cioè sono cose molto serie e dopo di che ha cominciato a fare perché vedi Vincenzo quattro oggi sono meglio di due otto oggi sono meglio di quattro sedici oggi sono trentadue sessantaquattro sono meglio di trentadue l'ho fermato guarda questa cosa l'ho scritto nel rapporto che poi hanno tradotto in inglese in giapponese perché veramente è una cosa semplice e geniale e straordinaria agito franca fermate ho capito dici no no ma vale sempre quanto più occhi ci stanno meglio è quello che noi dobbiamo fare dobbiamo rimettere gli occhi delle persone che lavorano sul loro lavoro amico mio Luca ma fa fatica loro nel capito cioè i primi che devono controllare il loro lavoro non sono quelli là che li controllano sono loro e dobbiamo dare senso a questa cosa perché un lavoro è ben fatto quando è fatto con la testa quello che sappiamo con le mani quello che sappiamo fare e con il cuore la passione e l'impegno testa mani e cuore questo è un lavoro ben fatto non si può chiudere che meglio che così testa mani e cuore me la porterò con me credo avremo bisogno di parlarne ancora Vincenzo perché è un tema centrale quello di pensare che a tutti i livelli qualunque sia il nostro ruolo qualunque sia il nostro coinvolgimento ci mettiamo testa mani e cuore Vincenzo fa vedere ancora la copertina a chi non l'ha vista prima magari del tuo libro il lavoro ben fatto Vincenzo Moretti uno stile e uno stimolo a far per tutti noi il meglio che riusciamo in ogni momento credo sia questa la sfida che ci lanci Vincenzo e noi cerchiamo di raccoglierla ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi questa sera io più che una sfida io sono davvero ti sono molto grato per l'invito mi ha fatto assai piacere parlare con te e con voi di queste cose basta grazie assai grazie di cuore e alla prossima grazie ancora Vincenzo e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e ci seguiranno grazie alla prossima ciao ciao